Se c'è un settore nel quale non vale il principio della territorialità, quello è proprio la protezione civile. Così il presidente dell'associazione denominata Gran Sasso d'Italia in risposta alla Cives di Teramo. Il senso nel quale deve andare il volontariato, anche quello di protezione civile, è quello aggregativo. Noi siamo inclusivi, quindi non siamo esclusivi e continuiamo la nostra opera, soprattutto a disposizione e in relazione a tutti. Anche la Cives, che è un'associazione che ha una grossa struttura, volontari formati e che ha la sua storia, che rispettiamo. Il nostro progetto parte da un'idea nata nel 2014 a febbraio 2014, che poi è stata recepita in qualche modo da una delibera del 2014, aggiunta regionale, che inizia a regolamentare, a creare delle condizioni per creare delle aggregazioni territoriali. I volontari di protezione civile a volte si trovano a spalare il fango per emergenza. Ecco, in questo caso, in maniera così ideale, sta succedendo la stessa cosa. I volontari di Gran Sasso d'Italia lo spaleranno, questo fango lo metteranno ai bordi della strada e continueranno a percorrere questa via che ormai è andata. Perché Teramo, la sede di Teramo? Perché da Teramo è arrivata un'istanza di alcuni volontari che hanno chiesto di costituirsi come sezione. Noi, seguendo lo statuto, seguendo quelle che sono le procedure interne, appunto, dello statuto stesso, abbiamo fatto le valutazioni. Il Consiglio Direttivo, che è espressione delle territorialità presenti, quindi sono otto comuni, hanno fatto una valutazione e hanno deciso di accogliere questa espressione di volontari. Diversamente questa sarebbe stata una risorsa sprecata. Ha chiarito alcuni passaggi dello scontro in fine e come lo commenta? Perché secondo lei questo scontro? Io non lo commento, avrei preferito, come ho chiesto prima che iniziassimo questa avventura, un colloquio seduti a un tavolo, quindi non so nessuna polemica di queste.